Aprile 2020. La popolazione mondiale è in quarantena per la pandemia Covid-19. Il mondo è fermo. L'economia va a picco. I medici e gli infermieri sono indispensabili e fanno del loro meglio anche se il numero dei contagiati è alto. Tutti abbiamo paura di perdere un caro. Ci sentiamo impotenti solo al pensiero di non poter stare vicino a una persona a cui vogliamo bene. Ci si aggrappa a tutto, ad ogni singola speranza. Anche il Papa, il 27 marzo, oltre a dare l'indulgenza plenaria, ha pregato insieme a tutto il mondo affinché questo finisca. Non è consentito celebrare matrimoni, battesimi e funerali, poiché le chiese sono chiuse. Così come anche i negozi, cinema, ristoranti, teatri, bar, palestre, cimiteri e scuole. La dirigenza scolastica e noi allunni ci siamo attivati affinché non perdessimo ore di lezione. I computer e i telefoni hanno sempre fatto parte della nostra quotidianità, ma al giorno d'oggi sono fondamentali. Per fortuna i professori, assegnando nuove schede e iniziando nuovi argomenti, fanno trascorrere le giornate più velocemente. Ho pensato di sentire la mancanza della scuola, dei professori, delle regole. Ma in situazioni come queste dobbiamo darci forza l'un l'altro. Nonostante sempre impossibile, anche da lontano possiamo dare una mano. Possiamo dare una mano restando a casa, facendo quello che ci viene detto dai medici e dalle persone che ci stanno proteggendo da tutto ciò. Sentire ogni giorno l'aumento dei contagiati, dei deceduti non è affatto semplice. Fa aumentare la paura, fa pensare che non ci sia una fine, ma la fine ci sarà. E quando riusciremo finalmente a scorgere un bagliore all'interno di questo tunnel che al momento ci sembra senza via d'uscita? Saremo diventati persone più attente e consapevoli, meno superficiali ed egoiste. La paura che questo virus possa portarci via le persone che teniamo più a cuore ci sta rendendo ragazzi meno apatici e più empatici. Si sta facendo ripensare a tutti gli abbracci e le carezze ricevuti mesi fa, a cui non avevamo dato valore. Ora tutti quei momenti sono impressi nella nostra mente e li sentiamo lontani anni luce. Perché allora non scorgere anche il lato positivo di questa pandemia? Stiamo costruendo giorno dopo giorno un rapporto migliore con i nostri genitori e non perché siamo costretti a passarci intere giornate insieme. Ma perché mentre un mese fa scappavamo da loro per andare ad una festa, rispondevamo loro con un tono prepotente e arrogante e le reputavamo noiosi? Ora abbiamo capito che se non cerchiamo di trattare i nostri genitori e i nostri fratelli con tutto l'amore e il rispetto possibili, un giorno potremmo non perdonarcelo. Non ci rendiamo conto del tempo che sta passando. Cerchiamo di approfittare di questo periodo di quarantena per fare tutto il possibile per diventare figli migliori, amici migliori, fratelli migliori e soprattutto persone migliori. Un giorno usciremo finalmente, abbracceremo il nostro vicino come se fosse nostro fratello e potremmo dire di avercela fatta tutti insieme. La seconda M vi augura buona Pasqua con la speranza che la prossima possa vederci tutti uniti anche fisicamente. Buona Pasqua! grazie